Nessuno vuole impedire alla magistratura di commentare le leggi sotto il profilo tecnico. La colpa della politica è stata quella di aderire, o meglio, inchinarsi alla magistratura senza dire noi ascoltiamo le vostre opinioni, ma alla fine decidiamo noi e solo noi perché abbiamo un mandato che, secondo la Costituzione, deriva dal popolo. Lo afferma Carlo Nordio, ministro della Giustizia, in un'intervista al Quotidiano Libero. In merito ai casi Santanchè, del Mastro e la Russa, il Guardasigili spiega che si tratta di fatti tra loro indipendenti e mi rifiuto di pensare a dei magistrati che vogliono interferire nell'azione governativa attraverso azioni giudiziarie. Non si può però negare che ogni volta che si sia provato a fare una riforma della giustizia è sempre stata bloccata con interventi giudiziari. Infine Nordio respinge le accuse dell'ANM alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di voler delegittimare la magistratura. Queste reazioni di voler delegittimare i magistrati quando si criticano alcune loro iniziative è quasi una reazione automatica da parte dell'associazione. Nel mio mondo ideale, afferma il ministro, i magistrati non dovrebbero criticare le leggi e i politici non dovrebbero criticare le sentenze.